Jin Kazama, la tua forza non basta per sconfiggere quel demone Ascoltami, devi seguire le parole di Zafina, è importante che tu torni all'origine Jin, omaeには omaeだけが nasceruことがある Kimiはもう一人じゃない,我々にも花を持たせてくれたまり Excellente Jin, iko Yeah, ando orai ovo Grazie a tutti Ho ancora un asso nella manica Vuoi farmi guadagnare tempo? Puoi contare su toi? Osservalo Ora inizierò il rituale per esorcizzare il demone Rilascio del sigillo C'è... Qu'è il problema? Non so, non so Non so, non so Grazie a tutti! 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 Ormai sono pronto da molto tempo... Tuttavia... Non mi sacrificherò in vano... Jinkazama... Adesso... Ormai sono... Grazie a tutti 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 Grazie a tutti